ciao a tutti oggi prepareremo l'aperitivo all'arancia il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono arance pelate al vivo zucchero acqua prosecco vodka la scorza di un'arancia o un cucchiaino di pasta d'arancia andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le arance pelate a vivo nella pasta d'arancia ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'acqua ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 4 aggiungere il prosecco e la vodka ed azionare il bimbi per 20 secondi a velocità 3 filtrare e servire aperitivo all'arancia grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti